Siamo qui a Lago Negro, nella splendida cornice di questa piazza duca degli Abruzzi, con il presidente del GAL Cittadella del Sapere, Nicola Timpone. Presidente Timpone, per la rubrica itinerari agroalimentari d'Italia, nostro ospite, presentiamo cos'è il GAL Cittadella del Sapere. Il GAL è un gruppo di azione locale, aderisce a un progetto leader, fanno parte del GAL dell'area sud-occidentale, che va solto il nome di GAL Cittadella del Sapere, 27 comuni. Si parte da Maratea, che è la perla del terreno, l'unico sbocco della Basilicata, e si arriva fino a Terranova del Pollino, che è proprio alle pendici del Monte Pollino. All'interno, come dicevo, del GAL fanno parte anche due grossi parchi lucani, il parco dell'Appennino Lucano e il parco del Pollino, che è il parco più grande d'Italia. All'interno del GAL, il GAL ha una superficie di circa 1.500 km2 e con una popolazione di circa 75.000 abitanti. Insomma, tra l'altro abbiamo in quest'area delle grandissime tipicità enogastronomiche, che non a caso esporremo e faremo conoscere nella prossima tappa di Roma del 3 aprile. Sicuramente, insomma, credo che con i nostri prodotti tipici, che hanno una grande caratteristica, che è quella della grande genuinità, cosa non facile da trovare oggi su un posto d'Italia. Dottor Timpone, nella rassegna itineraria agroalimentari di Roma, ma in altre sedi dove il GAL Città delle Sapere è stato presente, una promozione mirata dal territorio dal punto di vista turistico ed enogastronomico. Quindi, promuovere il territorio attraverso prodotti tipici e folklore è una delle finalità del GAL Città delle Sapere. Assolutamente sì. Noi quest'area, come io dico spesso, è una caratteristica di quest'area, è quella di una rara bellezza. Nel senso di territori, di paesaggi, credo che non hanno uguali in Italia e in Europa. E grazie anche ai prodotti enogastronomici noi vogliamo far conoscere queste nostre bellezze. Quindi 27 paesi che fanno parte del comprensorio del GAL Città delle Sapere. Quali progetti in corso, Presidente? Beh, abbiamo diversi progetti su questo nostro territorio. Diciamo che un progetto che è partito proprio in questi giorni va sotto il nome di Monnalise. È un grande progetto culturale che parte da Lago Negro. Parte da Lago Negro, però vi ha ragione, perché la leggenda narra che nel 1506, in un viaggio a Francesco del Giocondo, un commerciante di pelli di Firenze, andando, recandosi in Calabria con la moglie per acquistare queste pelli, al ritorno la moglie fu coltata dalla peste e morì. E sembra che la moglie, Leonardo, sia ispirato proprio a questa signora per il quadro di Monnalise, il quadro della Gioconda, che tutti quanti noi conosciamo. E proprio da questa leggenda noi abbiamo ideato un progetto che ha sotto il nome di Monnalise, che parte da Lago Negro, ma che si estenderà su tutto il territorio del Gale, su tutti i 27 comuni. Interessante. Quando partirà questo progetto? Beh, il progetto partirà nella seconda metà di aprile. Quindi, insomma, speriamo veramente di far conoscere ancora di più questo nostro territorio, a parte per le bellezze, a parte per i prodotti enogastronomici. Vogliamo far conoscere questo nostro territorio anche per grandi eventi culturali che questo territorio offre. Grazie.